Hai preso col pollo, non la vuoi? 5.000 euro? No, 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 sai perché no? Perché? Perché io giusto che... 5.000 euro? No, 5.000 euro sia giusto riceverli quando ci si merita, così a caso... Io li merito sempre. Tu? Ah, io o te? Sì, tu lo metto. Io devo dare a te 5.000 euro? Assolutamente sì. Fratello, dove mi trovo? Eh, ma io non faccio differenze. Bianco, nero, differenza zero, capisco? Eh, no, è bravissimo. Bianco, nero, differenza zero. Rosso dentro, nero fuori. Sei vilanista. Sì. Hai visto? Rosso, nero, dentro, fuori. Allora? No, rosso, fuori, dentro, nero, fuori. Io ti voglio chiedere. Dimmi. Secondo te stai vedendo i mondiali come stanno andando? No, assolutamente non me ne fotte un cazzo. No. Eh, sai, guarda, essendo svizzero guardo... Sei svizzero? Come quella rincoglionita là. No, poveri... Non è svizzero, è veneto. Io sono veneto, ma svizzero. Ah, capito? Figo. Eh sì. Come si chiude in svizzera? Molto bene. Sì? Tranquilli? C'è posto per altri neri? Assolutamente. A casa tua c'è posto? A casa mia non c'è posto per nessuno. Solo per te? Solo per me. Ok. Esiste solo per me. Cacchia. 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 C'è posto? No, dai. Non voglio stare da solo. No, mi dici, almeno una volta. Per cosa? Perché io ti preparo il riso col pollo. Ma è bello, buono. Sì? Ci si può portare. Possiamo organizzarsi. Assolutamente sì. Ragazzi, presto. Il riso col pollo. Il riso col pollo a casa del nostro. Grazie. Va bene. Sì, però cucini tu. Sì, cucini. Io, ovviamente. Allora ci si può fare. Secondo te chi vince con i Ghani? Una squadra a casa. Onesto? Io non lo so. Cioè... Ghani, ti prego. Di Ghani. Ma perché Ghani? Ma perché tu sei Ghani? No, no. Originariamente Ghani? No. Io ti direi più che altro Francia. Francia? Eh, hanno la rosa più... Sì, più colorata. No, ma no. Più colorata no. Più variegata, oserei dire. Ok. Attacco, difesa, tutto. Hanno più spunto. Hanno più spunto. Cioè, poi dicevano l'Argentina, ma... Contra la Sardegra. Francia. Io direi Francia. Peccato per l'Italia. Sarebbe bello vedere la Svizzera, ma non penso proprio mai. Anche se, embolo. Grandissimo giottore. Camerunense che fa gola al Camerun. Incredibile. Incredibile. Vabbè, ci sta. Va bene. Vediamo se la Francia riuscirà a vincere. Vediamo. Questo veniamo. Non che mi faccia piacere, però... Sarebbe bello il Giappone, sai. Ancora meglio il Giappone. Sai, quest'anno è bagattissimo. Sarebbe... Tramite Blue Lock magari hanno trovato l'attaccante giusto. Non sai neanche cosa, se tu lo... Mi hai scavato malissimo. Io che facevo finto di capire, ragazzi. Mi hai scavato... È un anime. È un anime. In cui cercano di scovare l'attaccante perfetto. No, perché tu dici perché io non sono molto in questo mondo. E calcio o in generale? No, è... Anime. Io mangio riso col collo. Vabbè, che cazzo vuol dire. Ma questo lo fanno tutti i tuoi amici, guarda, anche lui. No, no. Sì, sì, io mangio riso col collo. Ma anche io mangio riso col collo è buono. Cazzo d'è. Scusami. Cioè, adesso non prendiamoci per il collo. Riso col collo è la cosa più buona del mondo. Riso col collo è la cosa più... Buona del mondo. Non prendiamoci in giro. Non prendiamoci in giro, ragazzi. È così. Basta. Fine. E... Ti ringrazio immensamente. Grazie a te. Non me lo aspettavo, sincero. Cosa? Stavo cercando dell'acqua. È dato tutto per questo, ragazzi. Stavo cercando dell'acqua. E ha trovato il riso col pollo. Il riso col pollo. Incredibile. Vabbè. Io gioco a calcio, sai? Io faccio cagare, invece. Cos'è sta come un po' dell'acqua? Tanto, tanto, tanto. Sì, a calcio. Ti sei mai messo una prova? Sì. Ho giocato in squadra. Facevo il terzino, non ho i piedi, ma ho... Facevi il terzino? Allora sei di spinta. Sì. Spingo, ma non ho resistenza, solo velocità. E basta. E cattiveria. E cattiveria. Quella che trasmetti anche... Ragazzi, immaginatevi avere sulla fascia il Maseo che mi rincorre. No, no. Non vorrei me. È stato un piacere, eh? Anche per me. Ti ringrazio. Ciao. Ciao.